buongiorno e buon lunedì allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono commenti ne sostengono questo canale dai ragazzi che 5 mila un obiettivo fattibile su notizie la prima chi si era trovata la sospensione anche se era over 60 sembra che l'inps stia rettificando queste posizioni gli effetti li vedremo li vedremo comunque questa settimana con le lavorazioni presumibilmente il 13 cercheremo di rimanere sul pezzo e con le ricariche 15 questo discorso vale anche per quelli che essendo stati presi in carico dai servizi sociali hanno visto cambiare lo stato da sospesa d'accolta vediamo vediamo perché anche i radio ucci ha detto la stessa cosa troppo qui si deve muovere con le pinze è un altro motivo per cui per ora io non vi do certezze in merito l'adi cioè la segna di inclusione perché di fatto manca curare decreto attuativo questi fanno sempre in tempo a combinare un altro casino siccome non hanno combinati abbastanza con la piattaforma sfl e ricordatevi è da maggio che ne parlano siamo a settembre e la piattaforma fa pena fa più pena questa della piattaforma ampal e ci voleva veramente un impegno non da poco e tra l'altro mi avete segnalato diversi di voi alcune delle offerte sono già scadute cioè le hanno messe su anche se erano già chiuse quindi che cavolo le hanno messe su le hanno messe su per fare numero per far vedere che ce ne sono tante non ci sono altre spiegazioni le hanno messa lì sapendo che chiusa perché così possono dire visto quante andiamo messe sì ma se questa non c'è più è inutile metterla vediamo quante sono quelle effettive quelle efficaci discorso che vale anche per i corsi è stesso discorso però la notizia più brutta arriva da nonna roma e in generale questo ve lo posso confermare anche da tutte le associazioni di banchi alimentari cioè quelli che si occupano di dare i pacchi alimentari le persone nonna roma indica un aumento del 30 per cento delle persone che richiedono il pacco e secondo me quel 30 per cento di persone non ci sono solo percettori rdc o ex percettori rdc semplicemente nell'attuale congiuntura economica non ce la si fa anche con 500 euro non arrivi alla fine del mese ne servirebbero 700 proprio però diciamo che 500 sarebbe almeno qualcosa ma secondo me da 700 in su si dovrebbe ragionare ovvio che è impossibile lo so economicamente non è fattibile però vi dico la situazione per quella che è non quello che effettivamente si può fare per quello che si può fare banalmente sarebbe reintrodurre la rdc a copertura a fine anno o a copertura a scadenza naturale cosa che non verrà fatta perché ve l'ho detto non è stato tolto per motivi pratici è stato tolto per motivi ideologici e quindi se uno è un fanatico è un fanatico comunque il 23 c'era la manifestazione a roma però organizzata dai comitati di base di vogliamo un reddito e non dai politici a cui parteciperanno circa 200 associazioni che si occupano di banchi alimentari che non è un segnale positivo perché vuol dire che loro stesse si rendono conto che in questa situazione non ce la si fa appunto non si riesce a reggere perché le previsioni oltretutto sono al peggio non al meglio sono al peggio cioè la situazione peggiorerà ulteriormente e quello che fa questo governo dare le tessere annonarie non risolve assolutamente il problema anche perché poi finiranno sempre i soliti ma quelli che vivono da soli in italia ce ne sono tantissimi sono letteralmente neanche considerati da questo branco di pagliacci e non voglio offendere i pagliacci la gente viene abbandonata a se stessa e diventa invisibile cosa che ha detto anche luca sommi durante un suo intervento si diventa invisibili e quindi a loro non gliene frega più niente a cascata questo proprio quello che hanno fatto sta cadendo sugli affitti perché questo governo ricordatevi ha azzerato i contributi per l'amorosità incolpevole quindi neanche gli affitti sono più sicuri e a cascata sta andando a cadere anche sulla distribuzione perché la gente non ha soldi per fare la spesa e questo è un discorso che non riguarda solo i percettori rdc con l'attuali prezzi anche mettendo quel calmiere che però ve l'ho detto è limitato la gente comunque avrà dei problemi a fare la spesa comunque va delle difficoltà e chi non ha un rendito proprio non la può fare questi sono fatti non sono frasi demagogiche o sparate questi sono fatti e per chiudere è arrivato de luca de luca che dice che l'era dc togliere le radici è stato sbagliato che la gente non ce la fa e che la situazione grave e tutto quanto verissimo non discuto nessuna delle sue parole è verità però vorrei ricordare a quelli che adesso applaudono de luca che de luca era la stessa persona che disse in campagna elettorale quando doveva essere rieletto che c'erano tanti posti di lavoro nel settore turismo e alberghiero e che quelli che prendevano le radici erano degli sfaticati lo disse lui non l'ho detto io lo disse lui per cosa per motivi elettorali e adesso fa la stessa identica cosa si comincia a preparare il terreno per la prossima rielezione quindi prima di prendere però roccolato le parole di queste persone ragionateci un attimo pensate qual è il percorso pensate qual è il pregresso certo che sono d'accordo con lui adesso io sono d'accordissimo con quello che ha detto perché è una verità fattuale però è la stessa persona che quando gli ha fatto comodo ha remato contro le radici misurate di sempre bene questi personaggi perché questo è la loro e la loro matrice e la loro qualità cioè adesso lui si trova a dover gestire una situazione drammatica non sa come fare e quindi se ne esce con questa sparata e la fa anche per fini elettorali che il terreno non si comincia a coltivare presto guardate il ruspa che ha già cominciato a rompere le scatole per le europee quindi ragazzi chi è a roma e vuole partecipare alla manifestazione quando ho più informazioni ve le comunico ed è importante appunto che ci siano quelli che fattualmente adesso si devono occupare del problema un problema che non hanno creato loro un problema che sono creato da questo governo da questo governo di incapaci di impediti governato da una persona irosa e senza e senza un dono importante visto che lei continua a batterare di essere cristiana l'umiltà il senso del senso di aiuto verso gli altri perché ribadisco lei di quello che diceva il rabbino di nazare ha capito zero e lo dimostra ogni giorno di più perché quello che dice cioè lei non deve andare in una chiesa e guardare in alto perché altrimenti dall'alto la guardano e la fanno sprofondare giù ciao a tutti